amici recenziani bentornati sul canale per questo nuovo video questa è recenso la video rubrica di libri fumetti manga film e telefilm prodotta per l'accademia italiana del fumetto u comics che a caserta oggi parliamo sempre con una settimana in ritardo del panini free comic book day iniziamo bentornati in questa nuova puntata quest'oggi con la signora di fronte che mi sbircia possiamo finalmente parlare della terza edizione del panini free comic book day quest'anno però assieme alla panini e quindi alla marvel planet manga e tutto quello che concerne appunto il mondo panini troviamo anche la dc la rv e la sergio bonelli che si sono appunto unite in questo evento che in america è nato già a partire dal 2001 e che in italia appunto questo è il terzo anno proprio grazie alla panini prima però di iniziare vi ricordo che se non siete iscritti al canale lo potete fare cliccando il pulsante qui sotto e attivando la campanella al lato e che se siete appassionati collezionisti di funko pop e lego potete sfruttare i miei codici sconto e ottenere così uno sconto del 15 per cento utilizzando i codici che vedete qui a schermo e ovviamente sotto in descrizione perché sono complicati con le r e quindi evito di pronunciarli ma potete utilizzarli per i funko pop sul sito pops planet punto it e per i lego sul sito bricks planet punto com passiamo quindi al primo fumetto io come al solito ve li presento nell'ordine in cui li ho letti e quest'anno l'ordine è quello che avete visto sull'annuncio che avevo scritto sul sito www.retretrattinocenso.it quindi la prima storia che poi vedrete anche qui al fianco mio è the amazing spider man con l'accoppiata degli avenger questa prima storia ci presenta un peter parker che in cerca di un nuovo appartamento però mentre gironzola con questo suo coinquilino per la città di new york un gruppo di mutanti di eroi cattivi incrocia la sua strada stiamo parlando di boomerang di rino di electro e ovviamente l'ultimo big will devo essere sincero io non sono come già sapete molto ferrato su quella che è la fumettistica marvel soprattutto poi spider man che è un personaggio che sì mi piace soprattutto anche come è stato rappresentato qui però non ci vado tanto appresso ma sono dei disegni molto belli molto interessanti non vi posso dire granché su quella che è la storia perché è semplicemente una preview per cui non avrebbe neanche tanto senso parlarne però i disegni sono semplicemente spettacolari la seconda storia come ho detto è sugli avenger odino convoca a sé pantera nera e lo incarica di una missione questa missione prevede se tutto dovesse andare storto di far uccidere a pantera nera il suo stesso figlioccio anzi figliastro loki anche questo e se non ha preview non c'è tanto da dire ovviamente però il disegno parla tantissimo e il disegno di questa storia è semplicemente spettacolare non sembra quasi neanche un disegno come se un film ci scorresse sotto gli occhi quindi veramente eccezionale veramente stupendo mi piace moltissimo come viene rappresentata pantera nera e soprattutto odino che anche se perennemente stanco in queste vignette viene comunque a galla quella che è tutta la sua divinità e quindi spettacolare e bellissimi sono i visi e le caratterizzazioni che vengono date a loki in questo secondo albo firmato sempre marvel troviamo capitano america più i fantastici 4 in capitano america lo troviamo in questa storia molto distopica molto fuori dalle righe però comunque già rivisitata nel mondo marveliano di questo supereroe perché lo troviamo alle prese con l'hydra che è arrivata in america e che quindi significa tutto ciò che l'hydra ha vinto e che quindi sta dominando il mondo la storia viene raccontata attraverso una donna protagonista che però di lei si sa sembra sapersene ben poco e sembra quasi un proclama quasi come se tutto quello che racconta e quello che sono le gesta di capitano america in questa storia servono per raccontare per dare più forza incisività a quello che sono le conseguenze di alcune sue gesta appunto perché una preview non sa di nulla questa storia perché appunto mancano dei pezzi ma anche in questo caso i disegni mi sono piaciuti veramente tanto lo stile americano ha il suo perché ed è giunto il momento forse che io lo recuperi un po' la seconda parte di questo albetto è dedicata ai fantastici 4 troviamo quindi questa situazione un po' particolare perché mister fantastic e la donna invisibile con se ho capito bene i loro figlioletti sono scomparsi mentre il fratello della donna invisibile la torcia umana cerca di mantenere viva la speranza perché sua sorella e tutta la famiglia torni la cosa è di tutt'altro avviso è la prima volta se non sbaglio che leggo qualcosa dei fantastici 4 devo dire che questi disegni mi piacciono veramente tanto non hanno quella ricercatezza quello stile così minimalista che abbiamo visto ad esempio in tor pardon in odino e il pantera nera però funziona benissimo lo stesso e mi è piaciuto veramente tanto dall'occidente ci buttiamo all'oriente con questo preview di questo manga di stars una storia molto particolare perché i protagonisti sono degli animali antropomorfizzati li troviamo in questa storia che li vede i protagonisti studenti di una scuola che fa convivere nello stesso tempo animali erbivori e carnivori la storia quindi si incentra su questa differenza e sul fatto che un erbivoro viene trovato ammazzato da un carnivoro di cui non si sa praticamente nulla anche se ovviamente gli studenti soprattutto gli erbivori a causa della paura innata che hanno verso i carnivori iniziano a farsi un po' con i loro piani la storia sembra molto carina molto particolare diversa da quella che sono le solite storie manga almeno quelle cui sono io abituato però il disegno mi lascia molto interdetto perché se in alcuni punti questa linea molto semplice quasi abbozzata prende molta plasticità e diventa veramente interessante da vedere in altri casi invece questa storia sembra essere disegnata scarabocchiando è probabilmente uno stile perché già ho visto altri disegni di questo tipo ma non è che mi appassiona molto 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 vedrò come si svolge magari il primo volume lo vado a sfogliare se proprio mi interessa lo seguirò ma per il momento nulla di che torniamo quindi di nuovo in accidente sempre per la panini quattro ragazzi entrano in una banca questo fumetto e l'ho trovato praticamente geniale perché è geniale è spettacolare e finora forse quello che più mi interessa recuperare e leggere protagonisti sono quattro ragazzi sono page walter berger e stretch sono quattro ragazzi nerd che cercano attraverso il gioco comunque la compagnia reciproca una propria identità la storia inizia con questi toni del nero e del rosso prevalentemente perché siamo all'interno di una sessione di gioco di dungeon and dragons per poi ritrovarci nella storia vera e propria nella quale questi personaggi vengono introdotti sembra quasi voler scimmiottare un poco la sceneggiatura dei stranger things o comunque dei goonies però è una storia molto interessante e la cosa bella oltre al disegno di per sé è il fatto che alcune tavole sembrano essere rappresentate come se fossero degli stacchi di un da una scena e l'altra proprio tipici di un telefilm o di un film con quindi queste vignette molto piccole che vanno sul dettaglio staccano molto velocemente danno un ritmo veramente pazzesco alla storia e ci trascinano con questo disegno molto intenso ma minimalista all'interno della vicenda io lo trovo veramente una genialata staremo a vedere dalla marvel andiamo alla dc con dc nation e questi tre brevi preview di queste storie la prima che troviamo è il tuo grande giorno dedicata principalmente a joker che occupa illegalmente una casa mettendo sotto terrore il proprietario cerca anzi aspetta che gli venga recapitata una lettera o meglio un invito di nozze di cui ovviamente non vi dico niente non si sa perché questo invito debba essere recapitato a joker però a casa di qualcun altro e quindi perché debba essere recapitato a casa di quest'uomo ma ovviamente la cosa bella proprio perché è una preview e quindi la storia non può andare a fondo sono i disegni i disegni e il ritmo che viene dato a queste scene un ritmo che prende una narrazione incalzante bella ritmata potente ma soprattutto i disegni sono una cosa spettacolare perché ogni tavola è un elogio al viso e alle espressioni e quindi alla pazzia di questo personaggio che in questa storia è semplicemente spettacolare la seconda storia è vita da ufficio ed è dedicata quindi e anzi incentrata sulla vita di superman lois lane ha lasciato da tempo gli uffici del daily e con lei è scomparsa anche l'ispirazione e il lavoro ottimo che faceva clark kent al contempo in questo frangente entra in scena un nuovo personaggio che va a lavorare proprio al daily planet però questo personaggio sembra avere delle intenzioni particolari il disegno devo dire mi è piaciuto veramente tanto perché sembra proprio per come vengono rappresentati i personaggi non più di vedere un fumetto ma proprio un telefilm proprio per la verosimiglianza di volti personaggi di anatomie e proporzioni veramente stupendo soprattutto poi anche i colori questi colori blu molto freddi tipici di batman batman scusate di superman veramente spettacolari in contrapposizione ovviamente poi ai toni belli caldi del personaggio in sé l'ultima storia che troviamo è nessuna giustizia preludio che è quella che mi ha fatto storcere un po più il naso perché troviamo in questa commistione di personaggi perché il multiverso sembra essersi scassato un proliferare di personaggi forse troppi personaggi nello stesso momento che ci vengono presentati o meglio che vengono ripresentati e che un po affazioni raccontano quello che sta accadendo ma lo raccontano con un caos assurdo non tanto perché devono rendere l'idea della guerra che stanno combattendo perché non penso che sia l'unico modo col quale rappresentare questo momento di difficoltà ma il caos è dovuto principalmente al fatto che la gabbia della tavola non viene per niente rispettata tutte le vignette sembrano ballare nella pagina e soprattutto i balloon e i testi di descrizione o comunque di narrazione in terza persona volano come se non ci fosse un ordine di lettura ed è una cosa che io detesto perché per me c'è bisogno di ordine in una tavola ed è uno stile se questo si può definire stile che non mi è per niente piaciuto i disegni sono spettacolari ma c'è un ordine che non me li fa gustare troviamo per la DC Vertigo la nuova serie dedicata a Sandman Universe ci sono ben due storie in questa preview la prima ci presenta una minaccia che sconquasta l'equilibrio e la staticità che regnano nel regno dei sogni e quindi Lucifer che è l'erede del re dei sogni viene incaricato quasi sospinto dagli altri personaggi a far sì che si prenda una decisione a riguardo per scoprire cosa sta accadendo perché tutto ciò che era immutabile in quel regno sembra essere in pericolo i disegni sono spettacolari veramente una meraviglia un po' meno forse la scelta dei colori del regno dei sogni che non mi piace granché però per il resto uno spettacolo la seconda storia non è da meno anche se più minimalista nel senso del colore però non nel disegno in sé che è comunque carico di dettagli ci sono due bambini che giocano uno dei due viene ucciso la superstite ci viene raccontata nel passare del tempo quindi mentre da ragazzina cresce si fa adulta e invecchia come se fosse man mano sempre più pazza man mano sempre più slegata dalla realtà una storia molto misteriosa che devo essere sincero non ho ben capito però è molto molto interessante ed è da tempo che dico che voglio recuperare Sandman e prima o poi portafogli permettendo cercherò di farlo perché veramente veramente interessa di questo fumetto dico giusto due parole perché è uno come si dice dalle mie parti scuorno questo fumetto abbiamo Teen Titans Go e DC Super Hero Girls è uno scempio questo fumetto penso la cosa più poraccia e miserevole che è capitato addentro questo panini free comic book day targato DC perché è la storia anzi sono due storie dedicati non a personaggi di fumetti ma a personaggi della televisione sembrano quei personaggi io ora faccio una escursus da vecchio taggio di quelli di Anne Barbera perché Anne Barbera almeno avevano un senso erano particolari ma erano belli qui invece sembra il peggio degli ultimi anni di Cartoon Network ed è un peccato perché è carta straccia questa e quindi non voglio dedicarci molto tempo fa finta di essere divertente mi dispiace se qualche giovine che mi segue ha l'età adatta per apprezzare questo fumetto io non ho l'età adatta per apprezzarlo e si nota ma da quelle che sono le statistiche nessuno ha l'età adatta almeno di quelli che mi seguono perché apprezzi questo per cui facciamo finta che non esista che non sia mai stato messo in mezzo in questo evento perché un modo come un altro per incretinire i bambini sempre rv siamo però sul lato orientale e siamo dentro mari lo so che già dalla copertina questa storia e questo titolo possono essere molto furvianti spegnete gli ormoni perché non è così la storia vede come protagonista un ragazzo un nicchi comori che proprio per definizione ha lasciato gli studi e passa la sua vita a giocare ai videogiochi a mangiare a prendere i soldi dalla mamma l'unico altro contatto umano che ha oltre le telefonate della madre sono quelle di quando si apposta all'interno di un combini per seguire la ragazza di cui è fatalmente innamorato finché un giorno non si risveglia proprio nel corpo di questa ragazza il disegno è bellissimo soprattutto le prime tavole sono spettacolari perché hanno una plasticità dei corpi veramente bellissimo la storia è anche interessante perché la prima volta che leggo una storia giapponese di questo stampo non so neanche se definirla uno shoujo ma sono curioso appena sarà disponibile nelle fumetterie andrò a vedere meglio di che si tratta per il momento sembra interessante siamo giunti all'ultima storia questa volta italiana della sergio bonelli editore chiamata intitolata attica con attica abbiamo un autore giacomo bevi l'acqua che racconta di quella che è una voragine che lui ha dentro dalla quale involontariamente continuano a uscire personaggi storie eventi e che lui quindi finalmente si è deciso a mettere su carta la storia è molto interessante sembra però avere un po dei toni esagerati altisonanti ed è la storia di un ragazzo che qui viene definito stupido che si piazza in mezzo alla strada e inizia come un qualunque predicatore ad annunciare l'arrivo di cinque personaggi questi cinque personaggi ognuno con le proprie caratteristiche identità fanno parte di un enorme puzzle quindi sono i pezzi i tasselli di questo enorme puzzle di un evento futuro che deve accadere che quindi questo stupido è chiamato ad annunciare la storia è molto particolare molto interessante e il disegno lo è altrettanto non riesco a definirlo un manga perché ovviamente non lo è anche se però per come viene narrata la vicenda sembra prendere quei toni entusiastici di un manga però essendo una storia italiana e ovviamente ha uno stile tutto suo di disegno è molto interessante sono molto curioso di sapere cosa accadrà in questo volume dovrebbero essere 12 volumi a quello che ha preannunciato l'autore vediamo cosa ne esce questo quindi era semplicemente la terza edizione del free comic book dei targato panini rv dc e sergio bonelli e quindi questi sono i fumetti che sono stati dati gratuitamente ovviamente io vi ho semplicemente fatto un discursus di quello che sono le storie sta a voi farmi sapere quali sono le storie che voi state aspettando e soprattutto quali quelle che dovrei leggere anche se magari io le ho bocciate non uscitevene che devo leggere questa qui dei titans perché smetto di fare video non esiste con tutto il bene è assurdo che si butti inchiostro e carta e soprattutto intelletto per chi deve scrivere e poi chi deve leggere lasciamo stare io quindi vi ringrazio per la visualizzazione vi ricordo che se questo video vi è piaciuto di farmelo sapere cliccando il mi piace e condividendolo con i vostri amici iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto cliccando il pulsante qui sotto della campanella al lato vi ricordo che mi potete trovare su facebook twitter e google plus ma anche su periscope instagram e telegram passate su www.retrattinocenso.it e iscrivetevi ai gruppi facebook e telegram il salotto dei recenziani per continuare a parlare ancora più dal vivo io sono dario questa era recenso e noi ci vediamo venerdì prossimo con una prossima puntata sempre qui sempre su recenso pronti a sfogliare nuove storie e volare nel mondo della fantasia